I prossimi quattro mesi almeno, quelli necessari per i lavori di riqualificazione della Galleria Risorgimento. Un aumento degli iscritti pari al 37% rispetto al 2011, il 10% in più da fuori regione e un 20% in più dall'estero. Sei i master per neolaureati rispetto ai tradizionali quattro. Il centro studi Adriano Olivetti di Ancona apre l'anno accademico con un'offerta ampliata e con una lezione magistrale dell'economista italo-americano Dominic Salvatore. Ci riferisce Flavia Fazzi. L'Istituto Adriano Olivetti punta anche ad una rosa più ampia di collaborazioni con università straniere come il MIT di Boston o la Northwestern University di Chicago. I problemi non mancano, ha detto Andrea Merloni aprendo il nuovo anno accademico, ma siamo riusciti ad aumentare il nostro budget e a chiudere il bilancio in pareggio. La formazione è uno dei pochi investimenti il cui ritorno è di reale utilità per le imprese, anche e soprattutto in tempi di crisi. Sono aumentati i corsi, abbiamo aumentato del 50% il numero di master, stiamo aumentando del 30% il numero di studenti. I nostri studenti che vengono fuori regione sono in deciso aumento più di quelli che vengono alla regione, quindi vuol dire che Stau si sta conquistando un nome e una fama anche al di fuori della regione Marche e continuiamo sul percorso tracciato di quello di farla diventare una scuola eccellente e internazionale. Invitato per un Alexio Magistralis molto attesa, l'economista italo-americano Dominic Salvatore, che ha risposto con certezza alle domande dei giornalisti. L'Italia non è cipro, le banche sono solide. Il problema è uscire dalla congiuntura. Siamo in recessione e francamente la recessione non si cura aumentando le tasse e riducendo le spese. Queste sono cose che l'austerità dovrebbe venire dopo. Adesso bisognava spendere di più e non ridurre le spese. È facile dirlo dal di fuori. Dice che questo ci è stato imposto dai mercati, ma non è vero, perché l'Italia è più virtuosa della Francia. Se ci avessero permesso o noi ci saremmo presi il diritto di spendere fino a 5% del PIL come la Francia, non ci sarebbe stata la recessione.